Giro delle tre grotte, Casoli, Grotta dell'Onda, Cascate Naturali, siamo proprio sotto la grotta che è qui sopra, veniamo dalla grotta del Tanaccio che è sotto il Monte Gevoli, con le sue valse e con queste pareti strappiombanti abbiamo ultimato il Giro delle tre grotte. Adesso ci inoltriamo in questo dedalo di roccette per arrivare esattamente sotto alla grotta. Siamo un po' provati per vari giri che hanno visto il raggiungimento della 41esima vetta col pizzo di uccello preceduto dal freddone, Grotta dell'Onda.